state bene? ciao buonanotte grazie benissimo giacchini, metto l'olgoio a mangiare il Natale secondo me non è 25 è Natale e tutti i giorni il Natale è stare in famiglia e c'è anche un bambino che nasce stare in famiglia e soprattutto pregare perché ci sia il Signore sempre è sempre Natale se uno sta bene non gli manca il lavoro è sempre Natale è nato il chiuso bambino poi c'è regali mangiare passa con i tuoi c'è Natale che si fanno sempre delle feste a Natale e anche passare Natale con la mia casa per questo io per me c'è Natale tutti i giorni tutti i giorni è Natale per me mica solo il 25 Dicembre e caspita questa è una bellissima risposta è Natale tutti i giorni perché Gesù viene tra noi tutti i giorni il 25 Dicembre ricordiamo il giorno in cui è nato storicamente tutti i giorni viene con noi e ci sta vicino quindi Francome è bravissimo ha dato una risposta teologicamente perfetta a 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